Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Bari al 91esimo minuto d'Italia-Albania. L'ex bianco-rosso Michael Foloruncio ha infatti esordito nella prima partita degli Azzurri a Euro 2024, sostituendo l'autore del gol decisivo Nicolo Barella. Spalletti gli ha sì concesso pochi minuti, ma il suo ingresso in campo nella prima gara dell'Italia all'Europeo è sicuramente un premio e un riconoscimento del suo valore. Il trequartista che lo scorso anno sfiorò la Serie A con il Bari ha lasciato solo buoni ricordi e più di qualche rimpianto nel capologo pugliese. Il suo ritorno a Napoli, ancora prima dell'inizio della passata stagione, è stato contestato in più di un'occasione dai tifosi del Bari, che insieme a Foloruncio hanno visto proprio un anno fa partire i pezzi pregiati della squadra. Ora più che mai sono proprio i sostenitori dei galletti a poter dire di averci visto più lungo della società e chissà se lo stesso Foloruncio non abbia pensato proprio ai colori bianco-rossi poco prima di calcare il terreno di gioco del Westfalen Stadium di Dortmund, quegli stessi colori che sono stati il suo trampolino di lancio nel calcio che conta, prima in Serie A e ora nella rassegna continentale Euro 2024.